avviare il programma microsoft outlook 2013 cliccare sul menu file e poi su aggiungi account dalla vista impostazione account successivamente selezionare configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi e cliccare su avanti selezionare l'opzione pop o imap e poi sul pulsante avanti in informazione utente su nome digitare nome e cognome o altro identificativo nei messaggi inviati tale descrizione sarà visualizzata prima dell'indirizzo della pec indirizzo di posta elettronica indicare l'indirizzo completo della casella pec in informazioni server su tipo account fra le opzioni proposte selezionare imap su server posti in arrivo imaps.pec.aruba.it su server posta in uscita inserire smtps.pec.aruba.it in informazioni accesso su nome utente indicare l'indirizzo completo della casella pec su password inserire la password associata alla casella pec accertarsi che non ci sia la spunta su richiedi accesso con autenticazione password di protezione e la spunta su prova impostazione account dove questa sia disattivabile cliccare su altre impostazioni nel tab impostazioni avanzate alle voci server post in arrivo e server post in uscita selezionare nel menu a tendina ssl in corrispondenza dell'opzione utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente ed assicurarsi che la porta del server imap sia la 993 ed indicare la porta 465 in server post in uscita selezionare il tab server della posta in uscita ed abilitare le opzioni il server della posta in uscita richiede l'autenticazione ed utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo cliccare su ok e poi su avanti chiudi e poi fine assicurarsi che le cartelle speciali del server siano sottoscritte facendo clic con il tasto destro del mouse su posta in arrivo e poi su cartelle imap cliccare poi sul pulsante query permettendo così di vedere tutte le cartelle presenti all'interno della webmail possiamo selezionare quelle di nostro interesse e renderle visibili anche sul nostro client di posta cliccando sul polsante sottoscrivi le cartelle sottoscritte saranno visibili nella scheda sottoscritti eseguire infine un test di controllo inviando un messaggio sull'indirizzo di posta certificata al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi per eseguire la verifica aprire una pagina web e digitare webmail.pec.it la stessa pagina è raggiungibile anche dal menu in alto a destra del portale www.pec.it autenticarsi con nome della casella pec e la relativa password assicurandosi che il messaggio inviato tramite il client di posta outlook sia visibile nella cartella posta inviata della webmail in modo da confermare l'avvenuta sincronizzazione della cartella stessa